Un po' di burrasca per quanto riguarda Bitcoin ma un po' di burrasca anche e soprattutto per quanto riguarda invece il mercato delle cripto e le altcoin che sono veramente ancora deboli, deboli, deboli rispetto alla re delle criptovalute Però io oggi voglio andare controcorrente perché voglio anche parlare di un qualcosa che dobbiamo un po' tenere sotto stretta osservazione relativa a questo grafico che è un grafico accumulato relativo alla market cap delle criptovalute altcoin escluso Bitcoin, Ethereum e ovviamente le stablecoin che non hanno senso da monitorare E voglio parlarvi di una questione ciclica inerente a questo grafico che secondo me può essere interessante ma che non è nell'immediato, ha bisogno di qualche altro giorno Alla fine siamo arrivati tutto sommato a quello che era giugno di quest'anno e da qui in poi le carte dovrebbero cambiare per quanto riguarda la questione dell'eventuale inizio di una fase possibile al season o meno nei prossimi mesi Quindi questa cosa dovrebbe cambiare a breve e in effetti ragazzi i grafici ciclici ci dicono questa questione qui Però bisogna un po' fare un ragionamento e comprendere che queste cose non sono nell'immediato Abbiamo necessità infatti di avere delle conferme che adesso vi dirò e delle date che si spostano ma comunque da qui mancherebbe poco C'è da dire che la debolezza di Bitcoin anche della scorsa giornata teoricamente non troverebbe neanche conferma dalla questione legata a Bitcoin ETF Perché in realtà gli inflow sono continuati anche nella giornata di venerdì Quindi c'è da dire una cosa ragazzi e qui interviene una questione Il dato che noi andiamo a vedere attraverso l'utilizzo di queste pagine web eccetera è veramente corretto Perché? Perché io vi faccio vedere quest'altro dato stesso argomento Un sito differente è il contrario completamente Cioè qui si parla di un daily ETF net flow molto più basso con update nello stesso identico giorno Uguale praticamente vedete la questione dell'update è il 7 di giugno Uno dice che siamo stati in net flow in aumento di 130 milioni Qui dice addirittura meno un miliardo di dollari Allora probabilmente è sbagliato diciamo questo dato di questo sito Però l'idea di fondo era quella di farvi comprendere anche un concetto Quando noi andiamo ad analizzare determinati dati ricordatevi sempre che dobbiamo essere sicuri delle fonti Prima di tirar su delle conclusioni Ora o l'uno o l'altro Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video Lancio della moneta Bitcoin anche oggi Ma soprattutto e dice che scendiamo Questa volta ragazzi la volta scorsa non mi ricordo se ci aveva preso Di Satinò eh Satinò non ci ha preso Quindi questa volta potrebbe essere più adeguata Allora andiamo a fare un'analisi in briefing Intanto volevo vi ho già mostrato la questione legata agli ETF Che non mi è piaciuta proprio questa incongruenza tra questi due siti che io andavo a utilizzare Ma andrò ad approfondire un po' la questione per cercare di capire dove sta l'errore Poi ci sono dei dati importantissimi Giorno mercoledì 12 di giugno E' importantissimo perché abbiamo l'IPC Quindi il tasso di infrazione mensile e annuale L'annuale è atteso identico al precedente Per quanto riguarda maggio Però l'IPC è atteso in ribasso rispetto al precedente Quasi nullo Se non che poi abbiamo le proiezioni economiche del FONC Le decisioni del FONC sul tasso di interesse E soprattutto la conferenza stampa Quindi mercoledì giornata di possibile fase movimentata 12 di giugno Monitorare un po' di volatilità E questo potrebbe essere interessante Tra le altre cose vi faccio vedere che l'attesa è assolutamente già scontata Praticamente quasi il 100% Non si muoveranno i tassi Mentre invece per quanto riguarda l'Europa Sono scesi Ed è stato un ribasso che il mercato ha preso Andando anche a deprezzare l'euro Perché evidentemente non era così attesa Questa questione qui Tant'è vero che se noi andiamo a vedere L'indice relativo dell'euro È sceso proprio negli ultimi giorni Ed eccolo qui Dopo il ribasso del tasso di interesse Mi metto l'orario così si vede un po' meglio Forse la fate ribassista Che poi è questa qui Dal 7 da venerdì Ha preso un po' di ribasso anche rispetto al dollaro Infatti ha perso qualcosina Però secondo me la questione legata all'Europa È già un richiamo di quello che potrebbe avvenire Nei prossimi mesi Cioè non dimentichiamoci al di là Delle fluttuazioni momentanee del mercato Soprattutto delle cripto Che i tassi probabilmente saranno attesi in discesa Perché l'Europa ha già iniziato questa cosa E di solito avviene un po' il contrario Detto questo passiamo E passerei direttamente poi An analisi ciclica e tecnica di Bitcoin Perché qui poi abbiamo 13 giorni Richieste di ossidio di disoccupazione Che potrebbe essere interessante E questo report venerdì Sulla politica monetaria della Fed Che va sempre preso con le pinze Perché a volte queste giornate Vengono utilizzate anche dal mercato Per fare quelle oscillazioni di cui magari ha bisogno Perché era un po' di rumore di fondo Eccetera Allora struttura di Bitcoin Anzi facciamo così vi faccio vedere Intanto la questione legata al brevissimo Brevissimo dove abbiamo avuto Queste sono candele da 90 minuti Quindi brevissimo Abbiamo avuto vedete due ribassoni Che sono stati consistenti Uno e due E hanno portato alla creazione di un minimo Probabilmente rilevante per Bitcoin Nell'arco di circa qualche ora Siamo scesi del 388% Colmare un po' questo gap Però io volevo anche mostrare un'altra questione Che poi è un atteggiamento che a livello comune Avviene spesso su Bitcoin Quando si vanno a fare dei minimi Avvengono degli sciacquoni Questi sciacquoni possono essere In questo caso di medio periodo Perché qui stiamo parlando di un time frame daily Molto simili però a quello che vi ho fatto vedere Guardate l'affigurazione delle candele Con lasciato finale Pronunciata poi il recupero Quindi molto simile Rispetto a questa configurazione La fase attuale Che ovviamente deve essere vista nel breve Perché non è una fase imponente Solo una giornata Manca in pratica Soltanto di un recupero Che adesso vi mostro Perché la strutturazione Uno e due Seppur di brevissimo periodo Questa qui È simile a queste due sciacquoni Che Bitcoin di solito fa Sendo che però poi Il recupero avviene Uno, due e tre Di solito Entro poco tempo Questo significa che Dovremmo tentare di recuperare Questa candela di Bitcoin E se ce la fa Allora La possibilità Diciamo Di riprendere Una via rialzista C'è E si mantiene Altrimenti Il mancato superamento Di questa candela Secondo me Configura una debolezza Che andrà analizzata Appunto da Una questione ciclica Quindi lo Spartiacque È a 70.500 In questo caso Al di sopra Di 70.500 Secondo me Si recupera tutto E non cambierebbe Assolutamente niente C'è da dire Una questione Sul grafico Che vi ho fatto vedere Nel video di venerdì Che non lo avesse visto È importantissimo Quel video È veramente importante Non cambia Un ribasso del genere La struttura Che io ho mostrato All'interno di quel video Che a livello ciclico È veramente impressionante Ma sappiamo bene Che più volte Vi ho ripetuto Che più lenta È questa fase Di ripresa Di bitcoin Meglio è ragazzi Quindi in realtà Siamo ancora A 10 a giugno Fino alla fine di giugno Sarebbe stato Bene Sarebbe bene Diciamo Non andare A rompere I nuovi massimi C'è da dire Che secondo me Il mercato In una Fattispecie ciclica Che ha realizzato Con questo ribassone Di venerdì Non può Attendere più di tanto Ciò significa Che o riprendiamo I massimi In maniera Molto veloce Quindi non rispetteremo La scadenza Di fine giugno Oppure Scendiamo Per un po' più Di tempo E a questo punto Non recuperiamo Diciamo Questa fase Dei 71 mila dollari Eccetera Questo è Dal mio punto Di vista E dovrebbe Essere anche Da un punto Di vista ciclico Molto semplice Questo concetto Allora Andiamo a vedere La questione Intanto Per gli amanti Delle tecniche Di trading Che riguardano La Fair value gap Qui c'è un fair value gap Evidente Che il mercato Sta cercando di chiudere Dovrebbe chiuderlo A momenti Comunque intorno Ai 70 mila E qualcosa Quindi questo fair value gap Diciamo che durerebbe poco Il recupero Un po' di questa candela Di metà di questa candela Sarebbe In termini pratici Dal punto di vista Tecnico Non è cambiato nulla Nonostante il ribasso Perché Che cosa è successo Vi faccio vedere anche Il grafico Allora Qui abbiamo In sostanza Una figurazione Anzi Facciamo così La disegniamo Con la penna Abbiamo una figurazione Che si crea Con un triangolo In questo Modo Qui Questa figurazione È una figurazione Che tendenzialmente È una figura Di continuazione Del trend Solo ed esclusivamente Il breakout Ribassista Di questa area Qui A questo punto Dopo questo ribasso Configurerebbe Un'inversione Quindi si riandrebbe Con probabilità A testare Il supporto In basso Intorno Ai 67 mila Dollari Questa zona Qui Con grande probabilità Però Fino a quando Regge Questo livello Che è incluso È circa 69 E Qualcosa Più o meno Dovrebbe essere Vediamo in questa zona Ok Ok Non mi garba Non mi garba Questa Ok 79 2 Esatto Più o meno È in zona È in zona di minimo Invece È un po' più basso 68 4 Ma non cambia niente Perché vi ripeto C'è veramente poco margine Fino a quando regge Questa zona Qui siamo ancora Nel triangolone Quindi c'è ancora Questa struttura Che si va A delineare Struttura che Se recuperata Come vi dicevo prima Entro pochissimi giorni Secondo me Lancia il tentativo Di bitcoin Di andare A rompere La zona di massimo Questa qui A 72 mila dollari Circa Per poi andare Al test Dei massimi storici E secondo me A quel punto Non avremo possibilità Di attendere La fine del mese Di giugno Come io Teoricamente Speravo Tra virgolette Perché Il mercato Andrà probabilmente Velocemente A testare Quella zona lì A differenza Di questo E io sono anche Tra le altre cose Convinto Che potrebbe anche Rompere i massimi storici Purtroppo Facendo poi Un fake breakout Pericolosissimo Di cui parleremo Se dovesse verificarsi Questo scenario A differenza Una fase di debolezza Aumenterebbe E migliorerebbe Addirittura Le fasi Future Di bitcoin Quindi Se da una parte Nel breve Avremmo magari Un po' di debolezza Nella Medio Il periodo Migliora La prospettiva Dei prossimi mesi Rispetto a quello Che invece Sarebbe Una Impennata attuale Dentro pochi giorni Un nuovo massimo Che aprirebbe Un nuovo scenario Di cui vi ho già parlato Nei precedenti video Che in realtà Sarebbe meglio Evitare Ed eliminare Proprio Nei prossimi giorni Fatto sta Che Dobbiamo monitorare Questa fase Un po' Dovesse essere Invece migliorativo Uno di questi dati Cioè Magari Un'infrazione Più bassa Secondo me Si sale Ragazzi Ve lo dico In maniera Proprio Semplice Perché Qui La prospettiva Di questo Tipo di andamento Anticiclica C'è in realtà Un mensile Che è stato chiuso Su questo minimo Del 31 maggio Ed è improbabile Che sia stato chiuso Qui A 37 giorni Cosa che invece Potrebbe essere È un allungamento Intorno a 45 giorni Di una metà trimestrale Che a quel punto Sancirebbe Una fase di ribasso In questo modo Che chiuderebbe A questo punto Intorno a sabato 15 Tutta questa settimana Di ribasso Se si verifica Una roba del genere Io tengo in conto L'ipotesi Di una chiusura A 45 giorni Con una forma Di natura Ternaria Che si evince In maniera Abbastanza chiara Se Appunto Nei prossimi 1-2 giorni Non recuperiamo Velocemente I 70 71 mila Circa 71 70 mila 5 barra 71 mila Vediamo come ragiona Oggi E domani Nelle fasi di alziste Ma questa cosa Si vedrà Se deve fare Una chiusura del genere Non ci sarà Forza di bitcoin Per bitcoin Di tornare Al di sopra Di questa zona qua Probabilmente Sta già facendo Il suo rimbalzo Per poi chiudere Già Da domani Barra dopo domani Questa fase Però Ancora una volta Avevamo un mensile Troppo corto Qui Da 30 giorni Il pericolo C'era E c'era tutto Però anche qui Siamo a 40 giorni Che diventa Un po' lunghetto Quindi entro 4-5 giorni O va a chiudere Questo movimento O qui E' stato chiuso Il mensile A maggio Il 31 di maggio E allora A questo punto Anche l'analisi ciclica Come è normale Che sia E anche In maniera Abbastanza evidente Perché Perché siamo in Barra di congestione E in una barra di congestione La questione è legata Ai minimi ciclici Perdi aderenza Ragazzi In sostanza Sono passati Aprile Maggio E giugno Quindi tre mesi Di nulla Perché noi qui Abbiamo tre mesi In cui bitcoin Ha solo oscillato Facendo dei trend Che i trader Hanno festeggiato Però in realtà Non si è mosso E quindi i massimi storici Che sono stati toccati Il giorno 11 di marzo Mi sembra Una roba del genere Sono ancora Rimasti intatti 14 di marzo Esatto Rimasti intatti Quindi in sostanza Non è capitato Assolutamente nulla Questo impone anche Che è molto più difficile Avere una linearità In termini ciclici Perché qui Può essere Sia questa ipotesi Del ciclo alternario Sia un ciclo Già chiuso Qui E dove avremo Lo spartiacque Dalla tenuta Di questo livello Di massimo Cioè qualora Questo livello di massimo Dovesse tenere E dentro pochissimi giorni Andiamo a chiudere C'è ancora l'ipotesi Di un mensile Lunghissimo Da 45 giorni O meglio dire Metà del ciclo trimestrale Ancora da chiudere Ma qualora Questa cosa Non avvenisse E insomma Se andiamo su Ovviamente Qui abbiamo chiuso Il mensile Ma anche se Non andiamo su Anche se Cincischia così Senza andare a scendere Nuovi minimi E' sempre stato chiuso Il mensile qui Quindi l'ipotesi Del mensile lungo Da 45 giorni Si autocancellerà In pratica Entro pochissimi giorni Già secondo me Da domani Massimo Dopodomani Dobbiamo Ritornare a scendere Se c'è questa ipotesi Se c'è questa ipotesi Per andare a rompere Questo livello di minimo Già fatto E probabilmente Ritestare il minimo A 66 Se non romperlo Sarebbe un po' Più Classico Da punto di vista Ciclico Da 66 e 6 Se dovesse fare Una cosa del genere Attenzione a questa zona Perché Lancerebbe L'ipotesi Di un nuovo Di una nuova fase Di recupero Al momento Io sto seguendo Le mie posizioni Con i miei trading system Sono long Da circa 70.000 E qualcosa Perché siamo entrati Nelle scorse settimane Non abbiamo avuto Grandi problemi Uno dei miei sistemi Più veloci È uscito In take profit Leggero Aveva guadagnato di più Ma poi il mercato Ha reversato Rientrerà Sopra A determinati livelli Mi pare Sopra 70.000 2 70.300 Ad oggi Mentre sto registrando Poi cambia sempre Quindi non lo potete usare Così ragazzi No consigli finanziari Però In sostanza Anche quello È di brevissimo Dal mio punto di vista Dovesse rientrare Quel sistema Probabilmente Aumenterò La mia esposizione Long Anche su altre Su bitcoin Sesso Perché Si andrebbe a configurare Una Vantaggio statistico Visto che è un trading system E Vista la configurazione Che vi ho detto Si potrebbe configurare Appunto Questo vantaggio statistico Perché poi Da lì Se recuperiamo 71 Secondo me 72 Circa Bitcoin Tenterà Il breakout Dei massimi Storici E andrà a configurare Una questione ciclica Di cui vi parlo Nei prossimi video Qualora si dovesse verificare Ed è Sfruttabile Dal mio punto di vista Andiamo Alla questione Della debolezza Delle altcoin Ok ragazzi Allora Qui c'è un discorso Da fare La differenza Fra il breve E il lungo periodo Non consiste Nel lungo periodo Tutto funziona Anche se io Ho comprato un meme coin Non è questo Il lungo periodo E La differenza Fra il breve E il lungo periodo È legata Alle oscillazioni O rumori Di fondo Ragazzi Non ai trend I trend Nel breve E nel lungo periodo Possono essere anche Identici Anzi Il trend Il lungo periodo Deve essere comunque Configurato Ma noi dobbiamo avere Deve essere guardato Ma noi dobbiamo avere Sempre l'occhio puntato Su delle ipotesi Che riguardano Il lungo periodo Ciò non significa Che nel lungo periodo Io ho detto La mia opinione Dico Nel lungo periodo Saliremo Se il trend È ribassista Non è quello Il concetto Di lungo periodo Quello è una fantasia Inventata Di sana pianta Un credo Di natura religiosa Non è quello Il concetto Di lungo periodo Il concetto Di lungo periodo È dire Il trend È fatto In un certo modo Lascio da parte Le fluttuazioni Di breve Per concentrarmi Su uno scenario Che il mercato Mi ha già indicato Non è una mia idea Me l'ha già indicato E mi sta dando Dei segnali Ed è proprio su questo Che bisognerebbe Riflettere In questo momento Per la questione Delle altcoin Nonostante La difficoltà Di questi giorni Qui A livello Di struttura Le altcoin Restano E mantengono Attraverso Questo grafico Un trend Di natura Rialzista Quindi Nel lungo periodo Dopo La struttura Di ribasso Che era avvenuto Qui Questo trend È rimasto Rialzista In più Teoricamente Qui Sul minimo Avvenuto Nella settimana Dell'8 di aprile Questo è un grafico Settimanale Però ripeto È la total market cap Delle cripto Più bitcoin Più ethereum Meno bitcoin Meno ethereum Meno lessable coin In pratica È tutto Il mondo cripto Compreso le ciofeche Come si dice Messe insieme Ovviamente pesano Molto di più Binance coin Ton Solana Eccetera Lada E tutte le cripto Che sono in top 20 Pesano di più Perché ethereum Non c'è In questo caso Non c'è neanche bitcoin Però Ovviamente Ovviamente È un grafico Che è una specie Di indice Cioè Ci dà È come l'SP500 Delle cripto No Qui sarà l'SP3000 Delle cripto Potremmo chiamarlo così No Capito Perché È pieno di criptovalute Ed ha un'indicazione Di massima Chi più Chi meno Poi È il settore Delle cripto Perché hanno una Volatilità Differente Però In linea di massima Ci dice La situazione Del mercato Ecco questo Dobbiamo vederlo Da questo punto di vista Qui Su questo minimo Della settimana Dell'8 aprile Dovrebbe essere stato chiuso Un ciclo annuale Ciò significa Che noi qui Con molta probabilità Stiamo in un nuovo ciclo annuale Sì è debole Sì non funziona Assolutamente sì Tutto questo è vero Però Analizziamo i dati Quindi non Il lungo periodo inventato Ma il lungo periodo Di quello che sono I dati attuali Nel precedente ciclo annuale Di questo settore Di queste cripto qui Noi abbiamo avuto Debolezza Fino a questo punto qui Cioè Siamo stati deboli Per un sacco di tempo Cioè Praticamente 322 giorni Poi abbiamo avuto L'AIP Da novembre in poi Che ha fatto Tutto quello che doveva fare E basta Quindi Il concetto è 300 giorni di debolezza Qui siamo A 63 giorni Praticamente Il niente L'importante è che non si scenda Sotto questo livello di minimo Questo è il discorso Poi ci sono Delle sfumature cicliche Che dovremmo In realtà Tenere in considerazione Cioè il fatto che per esempio La precedente fase ciclica Di questo indice È stata 532 giorni Che è un ternario Con probabilmente Due annuali corti In mezzo Questo è il discorso Perché 532 giorni È una cifra Senza senso Per un annuale Quindi Ce ne sono due Qui in mezzo Sicuramente A forma ternaria Qui bisognerebbe capire Se sta facendo Lo stesso giochino Cioè se sta facendo Anche una roba del genere E poi Fa una cosa Così chiudendo Due annuali E non uno Normale Da 460 giorni Ma magari Riproponendoci Una cosa Simile al precedente Da circa 600 giorni Doveva creare Due cicli annuali Costruiti In questo modo Se fa una roba del genere Se fa una roba del genere Allora Si va a configurare Secondo me Quello che è L'ipotesi Del bitcoin Debole Fino alla fine Di giugno E anche dopo Fino a luglio Se invece Non siamo in questa Condizione Probabilmente Le cripto Hanno davanti A loro Dei giorni Che possono essere Ancora positivi Lo spartiacque Lo fa questo Questo Punto qui Questa zona È una zona Che teoricamente È di accumulo Poi è ovvio Non vuol dire Che io accumulo E non vendo mai Vuol dire Che io devo avere Una tecnica di uscita Di stop loss In base alla cripto Che sto andando a utilizzare Sotto determinati minimi Però Intanto che regge Questo minimo La questione ciclica Imporrebbe Che da qui Potrebbe essere Un nuovo annuale Più passa il tempo Più è confermato Questo è il discorso Perché Se siamo in una zona Del genere Tra un po' Andremo a chiudere Il ciclo Trimestrale Di questa Il primo trimestrale Di questa zona qui E a quel punto Questo trimestrale Che se lo fa Da 70-80 giorni Come lo fanno Solito le cripto Chiuderebbe A fine giugno Potrebbe lanciare Una nuova fase Di recupero Attenzione perché Qui si è creato Anche una figurazione Interessante Che è data Da questo appiattimento Di questa barra Di congestione Questo è un grafico Tra le altre cose È un grafico Settimanale Ve lo faccio vedere Sul grafico Daily Che si vede Un po' meglio Cioè Questo appiattimento Qui Sancisce Un livello Importante Di breakout Sopra questo livello Si va ai massimi Ragazzi Questo è il discorso Allora Vedete come La visione Di lungo Costruita Con Precisione Con dati Non basata Su opinioni Ma basata Sull'analisi Di quello Che il mercato Ci sta dicendo Ci porta A valutare Questa fase Di debolezza Delle cripto Secondo un'altra Luce Questo non significa Che saliranno Al 100% Perché vi ho detto C'è ancora l'ipotesi Che posto a fare Due annuali insieme Allora si scende Dal giugno Luglio Però questa cosa È legata anche All'atteggiamento Di bitcoin Se non riesce A recuperare i massimi Come vi ho detto Prima in questo video Eccetera Ma se ci riesce Eccetera Cioè Non dobbiamo Valutare questo momento Di debolezza Delle cripto Come un disastro Perché non è quello Che stanno dicendo I prezzi Quindi Tralasciamo le oscillazioni Di breve Che ci modificano L'approccio emotivo E ragioniamo Sul dato Questo è molto più importante C'è un dato E c'è un prezzo Che è questo qui Fino a quando regge Questo qui Tutta questa fase È solo Una barra di congestione Che potrebbe Lanciare Con buona probabilità Una nuova gatta Rialzista Anche nelle altre Crittovalute E quindi In teoria È una fase Di accumulazione Non di distribuzione Ovvio Che se poi Ci va al contrario Il mercato E i prezzi Dobbiamo prenderne Atta Andare in stop loss Magari O ridurre un po' L'esposizione E amen Però Non facciamoci La testa Prima del dovuto Volevo specificare Questa cosa So che molti di voi Magari Apparanno una luce Che si è accesa In questo momento E so che molti di voi Non comprenderanno Ancora questi concetti Perché magari Hanno una maturità Sugli investimenti Ancora Da lavorarci su Ma vi assicuro È assolutamente Così Che bisogna fare Negli investimenti E anche In generale Per tante altre cose Nella vita Vabbè Detto questo Per oggi è tutto Buon inizio settimana E se non mi lasciate Mi piace Siete Non lo dico Ciao Ciao